Fermi nelle proprie convinzioni, chiusi nella loro rigidità e alla fine tiranni del popolo. Papa Francesco, nell'Omeria della Messa a Santa Marta, ha tratteggiato così la figura di coloro che ai tempi di Gesù detenevano l'autorità giuridica, morale e religiosa. Persone senza memoria, capaci di rifare le leggi talmente tante volte che alla fine dimenticavano i comandamenti più importanti del Signore. Ma soprattutto, incapaci di perdonare perché si consideravano perfetti, mentre erano vanitosi, superbi e orgogliosi. Intellettuali della religione, li ha chiamati il Papa, che portavano avanti la catechesi del popolo con una morale fatta dalla loro intelligenza e non dalla rivelazione di Dio. Per questo, affermato, il popolo umile, povero e scartato da questa gente si allontanava dal Signore. Ma attenzione, anche oggi, ha proseguito il Papa, nella Chiesa c'è quello spirito di clericalismo. Ci sono chierici che, sentendosi superiori, non ascoltano i poveri, i sofferenti, gli ammalati e i carcerati. Il male del clericalismo è una cosa molto brutta, è una edizione nuova di questa gente. E la vittima è la stessa. Il popolo povero e umile che aspetta nel Signore. Il Padre sempre ha cercato di avvicinarsi a noi, ha inviato il suo Figlio, stiamo aspettando. E' aspettando, è una tessa gioiosa, insultante. Ma il Figlio non è entrato nel gioco di questa gente. Il Figlio è andato con gli ammalati, i poveri, gli scartati, i pubblicani, i peccatori, è scandaloso quello. Le prostitute, anche oggi Gesù, dice a tutti noi e anche a quelli che sono sedotti dal clericalismo, i peccatori e le prostitute andranno avanti di voi nel Regno dei Cieli. Grazie. Grazie.